Cazzo. Che c'è? Eh, furiosi. Ci sono furiosi ovunque. Non ne vedo neanche voi. Eh, Brian, sai che fine hanno fatto i tuoi uomini? C'è un'orda da queste parti. Non ne ho idea, sono scomparsi nel nulla. Ricorda che se li trovi, molti di noi ti saranno gratis. Ah, certo, la gratitudine cambia tutto. Comunque, ok, va bene. Vedrò di farlo, chiudo. Scusami, no. O'Brien, quanti uomini ci sono? Quanti ne hai perso? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Entra e cerco il tuo furio. O'Brien, quanti uomini ci sono? Quanti ne hai perso? Ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Che cosa è sta cosa?